Ma adesso vabbè, con la miseruola è così, però senza, non posso usare due mani ovviamente. E oggi parliamo di Merlino, un piccolo barboncino nano che dovrebbe essere un angelo, ma in realtà anche lui è un piccolo diavolo. Anche per vestirlo hai problemi? Sì, finneggiate da malavica. Merlino ha più volte pinzato la propria proprietaria Barbara in seguito al tentativo di manipolazione. Barbara fortunatamente riesce ad utilizzare la miseruola, ma Merlino mostra continuamente aggressività. Barbara ha deciso di venire qui a scuola per cani e di iniziare con noi un percorso per mettere fine, una volta per tutte, a questi comportamenti. Grazie. 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 Grazie.